salve a tutti vorrei proseguire cercando di far capire alle persone le le balle che sono state raccontate sulla cosiddetta via iniziatica una di queste balle riguarda tutto ciò che si è scritto sul terzo occhio sul terzo occhio tanti anni fa io lessi un libro dove addirittura qualcuno diceva che gli avevano si chiamava proprio il terzo occhio questo libro era della terza non mi ricordo l'autore edizione la terza e addirittura gli avevano scalpellato l'osso per aprire il terzo occhio cose allucinanti e il terzo occhio che si trova sulle immagini della dea cali e anche di sciva è una cosa che esiste ma non ha niente di quella luminosità direbbe jung con cui viene descritto non è questo fattore straordinario e ve lo dice una che il terzo occhio ce l'ha ma questo non è un segno di chissà quale ottenimento di quale saggezza quale mi spiego meglio questo è parlato di chakra questa è l'agna chakra e dove si fissano le immagini che sono più importanti per noi ci sono delle immagini che fanno da guida nella mente che appartengono sempre alla mente attenzione e la e che sono fissate nel profondo e che ci guidano non nel senso che ci fanno da guida letteralmente ma che danno una tendenza dentro di noi allora a un certo punto della mia vita dopo aver incontrato l'astrale oscuro eccetera eccetera cose che per ora non vorrei mescolare io stavo stavo per addormentare vedi nella stanza un occhio luminoso ero abbastanza abituata ai fenomeni diciamo strani senza per questo farmi fuorviare dalla realtà delle cose rimanendo quindi molto lucida e molto attenta senza esaltazione eccetera e senza nessun appoggio purtroppo in quel momento appoggio che poi ha avuto invece in quel momento di persone che potessero spiegarmi certe cose e questa è la ragione per cui io lo faccio perché se a qualcuno capita finalmente ha un riferimento riferimento io non ho avuto se non a un certo punto ma prima ho dovuto fare tutto da sola e questo terzo occhio che che vive kananda altri hanno superlativizzato come se fosse chissà quale ottenimento è semplicemente l'occhio che guarda se stesso cioè è il desiderio principale di vivere dentro anziché fuori è l'ottenimento della centralità della persona ci sono in questa immagine in questa ania chakra io ho visto persone mi ricordo una persona per esempio che vedeva un paio di forbici e che era tutto ciò che era stato tagliato nella sua vita che lui non poteva conoscere e lui era impegnato a tagliare questi ricordi perché altrimenti non ce la faceva erano troppo dolorosi un'altra persona ricordo aveva il viso di suo padre era che era sorridente o accigliato a seconda di come lui si comportava perché il suo riferimento era era l'ottenimento dell'approvazione di suo padre un'altra persona aveva un buddha tutto d'oro assolutamente immobile che era l'ottenimento della anestetizzazione che doveva regnare in lui era una persona che addirittura quando faceva le scale non doveva aumentare il respiro perché lui doveva essere sempre inerte le cose dovevano scivolargli sopra quindi quel buddha non era un'immagine positiva come facilmente gli si poteva far credere o lui voleva credere perché era una statua una statua d'oro ma una statua e le cose sono semplici se io sogno una statua quella statua è una parte immobile di me noi possiamo illuderci di tutto ciò che vogliamo e la mente condizionata ci illude perché non vuole che noi apriamo i veli del tempio non vuole che sveliamo la iside c'era un libro che si chiamava la iside svelata scritta dal blavanschi una brava donna devo dire che alla fine che aveva dei fenomeni straordinari nella sua vita e che alla fine della sua vita lei si accorse e lo scrisse di essere stata manipolata dai maestri tibetani perché volevano portare lo yoga nell'occidente però per lei non era arrivato nulla in effetti questo è un esempio importante perché lei si era lasciata manipolare con la speranza di fare qualcosa di buono per l'umanità prendendo le direttive da qualcun altro questo è il fatto se io mi immolo ad un dio o ad altra gente in qualche modo non sono creativo naturalmente qualcuno può dire ma lei ha fatto del bene portando lo yoga in occidente chi lo sa può darsi di sì può darsi di no è difficile da dire non è che l'umanità sia diventata questa pereggevolezza o abbia diminuito la sua cattiveria ad opera dello yoga lo vedrà il tempo comunque il fatto sta che chi si sottomette ad altri perde una parte di sé e la via della consapevolezza non è questa sono io che devo capire non gli altri che mi devono dire cosa devo fare non è una ribellione all'autorità tensione se un'autorità è sana o se io devo obbedire per il mio ruolo io obbedisco o se un'autorità è sana io obbedisco idem ma questo non c'entra niente con la consapevolezza la consapevolezza è credere solo in ciò che si è sperimentato quindi il mio terzo occhio che io vedo se chiudo gli occhi e sto un po in penombra un occhio che prima si divideva in tre esattamente come la figura della della dea calide eccetera perché evidentemente avevano avuto questo fenomeno e si basavano su questo però è passato come un segno di grande chiaroveggenza di grande non si vede da questo chi aspetta segnali strani non cerca la consapevolezza il fatto che io vedi il terzo occhio non mi dice nulla e allora mi hanno detto no però vive a cananda no scusate si vive a cananda e disse che a un certo punto bisognava vedere il cerchio luminoso con le onde tipo sole insomma no con i raggi ma sì io ho avuto pure quello ma so da cosa dipende cioè quando noi facciamo meditazione ma io non faccio più meditazione cioè delle volte sto per gli affari miei e sto abbandonata senza pensare per riposare la mente magari perché mi sono occupata di studi di cose eccetera e mi piace ogni tanto stare in questa dimensione e a seconda del rapporto tra coscienza e abbandono io vedo cose diverse che è il rapporto di cui parlavano gli alchimisti nel solve e coagula e dicono è tutto lì il gioco sta tutto lì nel solve e coagula coagula cioè guarda bene no controlla vedi e solve e lasciati andare cioè concentrati o lasciati andare a seconda di quello che adopero di più se io mi lascio faccio doppio spazio al lasciarsi andare che non alla coscienza che è un gioco di un filino è perché poi uno rischia di addormentarsi su questo infatti lo yoga lo dice no che il difficile quando togli la mente restare svegli ma dipende dal dal gioco che fai tra coscienza e e lasciarsi andare no è un po come il stare su una salita con il freno e la frizione no devi fare un gioco di freno e frizione che ti viene esattamente al centro e qui tu puoi scantonare un po più nella coscienza un po più nel lasciarti andare se applichi un po di più la coscienza vedi il punto luminoso la famosa stella che ti guida se che è un contatto neuronale insomma non è che c'è da costruirci sopra l'ira di dio se invece ti lasci più andare cominciano a vedersi delle io all'inizio vedevo delle bande di rosso e di blu che poi si sono uniti hanno hanno formato un colore viola poi qui ci sono libri sul colore viola che è l'unione delle due energie e cose eccetera eccetera l'anima e la mente e poi c'è la corona solare intorno come un sole che si espande sì è vero ma io ritengo possibile che ci siano persone che siano più evolute di me che non provino niente di questo per esempio che non è questa la prova della raggiunta evoluzione tant'è vero che non me ne curo più di questi fenomeni li ho osservati quando si sono formati ho seguito poi lasciato perdere perché l'importante è come sto io dentro e quanto sono vera io quindi il terzo occhio è un fenomeno che è legato a un incisione dentro di noi di quello che ci guida cos'è che volevo io enormemente è conoscere il dentro che poi se è guidato bene ci porta all'unione con l'anima quella incontaminata diciamo no è vero però non è con l'immagine che noi ci possiamo convincere di quello che siamo ma è sentendoci e anche come in genere ci sentono gli altri perché se noi siamo persone salutari diciamo gli altri lo sentono hanno piacere di stare con noi hanno piacere di parlare con noi ci sentono amichevoli ci sentono materni non paterni ma materni sentono che non ci sono barriere che non ci diamo arie e che non raccontiamo i fatti nostri perché non ne abbiamo bisogno qui qualcosa di me devo dire perché come appunto questi fenomeni non parlo della mia vita privata ma dei fenomeni perché è proprio quello che voglio dare cioè voglio che la gente non si faccia infinocchiare con i fenomeni io fenomeni ce l'ho ma non servono a niente quello che serve è la consapevolezza è il capire dentro qui è il chakra del cuore che si deve aprire nella nella via alchemica di cui si parla nel mutus liber che effettivamente delle cose le ha capite ma non del tutto o almeno il modo in cui le esprime non è molto comprensibile diciamo il nella fine del mutus liber c'è una scritta che è 10 100 mille 100 mila cioè dove tutto è ampliato ed è vero perché quando cade la mente si sente molto di più l'umanità si sentono gli altri molto di più è tutto ampliato nel bene e nel male purtroppo nel bene meno male nel male purtroppo e conoscere il male del mondo richiede una grossa forza perché è difficile da mandare giù ed è una cosa con cui non possiamo stare molto a contatto perché ci fa male ci dispiace perché si è a contatto con la sofferenza di chi subisce questo male il bene del mondo la gioia del mondo invece ci fa star bene vedere un'altra persona che sta bene ci fa star bene come se fossimo noi a quel posto ci fa ci rende partecipi ci rende sulla stessa terra noi calchiamo lo stesso suolo degli altri non ci stacchiamo e a questo punto dopo aver dissacrato un po il terzo occhio vorrei dissacrare un pochino anche i sogni lucidi nella mia ricerca di un mondo interiore io ho seguito diverse cose come già ho detto e ricordo che facevo degli esercizi per entrare nei sogni da sveglia eccetera eccetera e ci sono anche riuscita non serve a niente ci sono delle tecniche per avere i sogni lucidi non serve a niente ci sono persone che dicono che se voi riuscite a entrare nei sogni luci da lucidi quindi potete anche entrare nei sogni degli altri e manipolarli o manipolare la vostra realtà no c'è un'eccezione ma è molto bassa e molto malevola di alcune persone che rientra riescono ad entrare nei sogni dell'altro però innanzitutto anche l'altro non deve stare in una buona situazione di anima ed è un gioco molto oscuro perché fa parte della manipolazione degli altri e naturalmente non vi dirò mai come si fa cosa che neanche io so esattamente ma intuisco insomma i sogni lucidi di per sé vengono quando c'è una grande consapevolezza o c'è una angoscia o una grande angoscia perché c'è un grande cambiamento cioè l'angoscia viene perché c'è un grande cambiamento per cui i sogni lucidi in genere vengono in periodi di grande cambiamento attenzione questo cambiamento può essere positivo o negativo o perché stiamo scoprendo un mondo diverso dentro di noi o perché stiamo dando fuori di capoccia quando stiamo per sbroccare quando il per usare termini più più appropriati quando l'inconscio sta invadendo la coscienza a volte avvengono dei sogni lucidi come ad avvertirci di un pericolo i sogni lucidi non bisogna procurarseli diventa poi naturale avere dei sogni lucidi nei momenti in cui capiamo qualcosa quando è caduta la mente ma lì i sogni poi diradano perché ormai abbiamo elaborato un sacco di cose e non lasciatevi infinocchiare da quelli che vi vogliono far uscire in astrale che vi vogliono far avere i sogni lucidi che vi vogliono far avere delle dei fenomeni strani ricordo quando ero giovane che c'era un gruppo di per lo più giovani si che facevano che erano di che erano di un guru indiano che facevano esercizi e insegnavano alla gente come staccarsi da terra e ricordo una mia amica che mi disse io vorrei andare partecipare per ottenere cosa perché se ti stacchi impari a maneggiare quelle energie e poi ci puoi fare quello che ti vale follia questa ricerca di fenomeni è per avere una speranza che saldi che sani la nostra angoscia e cioè se io trovo un qualcosa di fenomenico so che c'è qualcuno che è una strada che è un sistema per uscire fuori dal mio dolore e allora credo in qualcosa poi il fondo è questo quindi non è che mi scandalizzi la ricerca del fenomenico mi fa tenerezza chi ricerca il fenomenico perché non sta certo bene insomma cerca di uscire fuori da una situazione di stasi dolorosa per lo più però ricercate le cose giuste non fatevi imbrogliare dagli altri perché potete precipitare molto più in basso e perché non è gente pulita quella che lo fa ricordate i fenomeni che devono succedere sono solo dentro non fuori io ho conosciuto gente che faceva quasi miracoli no quello che piegava la forchetta che lo faceva davvero non per non c'era trucco o che riusciva a far apparire delle scritte sul soffitto le ho vissute ma era un povero disgraziato che stava male e dietro c'era altro non cercate il fenomenico cercate la consapevolezza è l'unica strada giusta che non vi frega non date retta ai guru e ai santoni l'india è piena di santoni e i genitori gli affidano i figli che io non affiderei mai a nessuno anche perché quello che gli fanno non lo sappiamo così come non affiderei i figli ai preti insomma ci siamo capiti e noi dobbiamo costruire la nostra strada passo per passo cercando anzitutto di demolire i nostri schemi perché sono le barriere della mente noi dobbiamo togliere quelle le barriere della mente allora una delle cose che si dice molto spesso è liberarsi dal cordone umbilicale ne posso più di sentire sta cosa il cordone umbilicale è la madre qualche volta anche il padre ma per lo più la madre o comunque la madre ideale magari non quella reale perché ci salva idealmente da tutti coloro che hanno cercato di distruggerci quindi togliere la difesa è come dire a uno che sta in guerra posa l'arma e lascia di uccidere noi non dobbiamo togliere quelle difese se prima non abbiamo capito e non abbiamo altre armi quello di cui dobbiamo liberarci non è tanto la madre che ci deve salvare liberarci dall'amare che ci deve salvare quanto di tanti altri schemi che ci chiudono la mente in diversi paesi del nord i ragazzini a 18 anni smammano come si dice e tutti occhi bravi devono lasciare i genitori per carità e lo fanno senza però averne l'autonomia interiore per cui è vero che si abituano a stare da soli chiudendo tutto e la sera poi li vedete nei locali andate a berlino e lo vedete nei locali ma anche nelle altre città e vedete i ragazzi tutti ubriachi per il dolore che hanno dentro perché non riescono a stare con se stessi non è questo che dobbiamo ottenere la libertà deve essere dentro inutile cercarla fuori la dobbiamo cercare dentro uno degli schemi di cui ci dobbiamo liberare è quello del conflitto generazionale ogni generazione parla male della generazione passata io sento gente di 50 anni che dice ai miei tempi era diverso questi non sanno stare se non stanno col telefonino non è possibile ogni generazione ha criticato quella successiva ogni generazione ha dovuto dire che la sua generazione era migliore i miei genitori hanno criticato la mia generazione la mia generazione ha criticato la generazione successiva ma la generazione precedente dei miei genitori ha criticato i miei genitori e quella ancora precedente ha criticato i miei nonni cioè ognuno ha criticato l'altro perché deve dimostrare che loro sono meglio allora i giovani di oggi è la frase ferale i giovani di oggi sono i giovani di sempre hanno mezzi diversi ma sono sempre quelli la gente è quella e non invocate il passato perché il passato ci ha portato le guerre questo magnifico passato non c'è mai stato e i figli di oggi sono quello sono in parte quello che gli hanno dato i loro genitori non sono spuntati dalla terra sono spuntati dai genitori sono quello che la famiglia gli ha dato e attenzione chi critica la generazione che viene dopo di lei non ama i giovani non è disposta a lasciargli il posto ecco questa è la ragione non rispetta i cicli e si può capire che sia difficile abbandonarsi e lasciar scorrere la nostra vita e lasciare il posto ad altri perché se non si è capito è difficile allora cerchiamo di capire perché poi diventa bello dare il posto ad altri anche perché uno se ne vorrebbe andare in un posto migliore quindi il conflitto generazionale è invidia per la gioventù e c'è dietro un'illusione mentale condizionata e cioè che la nostra gioventù era meglio e quindi meritava di più la vita è un soffio qualcuno diceva la vita è un brivido ti volti e c'hai 80 anni l'importante è cosa hai fatto nella consapevolezza della tua vita non delle cose che hai fatto perché le cose che hai fatto non servono a niente che hai fatto? i figli? bene le fanno tanti fanno pure gli animali fanno tanti hai aiutato qualche persona? bene tanta gente l'ha fatto e magari hai fatto anche cose che non sono così belle ma comunque qualsiasi cosa tu abbia fatto il tempo è come il vento le cancella l'importante è la consapevolezza è quel grano di consapevolezza che tu hai alimentato e che hai anche portato un po' nell'oceano dell'indifferenziato dell'umanità qualcosa di bene minimissimo l'hai fatto anche agli altri però l'hai fatto a te e magari a quelli che hai intorno perché se tu sei consapevole i tuoi se ne accorgono nessuno è profeta in patria non è del tutto vero certo se uno si mette a parlare agli altri come sto facendo io è anche possibile che che qualcuno mi prenda per pazza o mi dica che mi sono montata la testa o altre cose che ad altri non piaccia questo è possibilissimo ma chi ti vive intorno se tu sei vero specie i tuoi figli ti rispettano e ti apprezzano altrimenti non sei vero se sei in collusione con loro non sei vero se i figli ti osannano troppo sono fuori di cervello ma se ti vedono come una persona normale con una comprensione un po' anormale e allora va bene allora sei vero perché ti riconosco perché è nel quotidiano che vedi le persone io ricordo una volta andai a sentire un seminario di yoga giravo dappertutto e ci fu un insegnante che parlava in maniera piacevole diceva delle cose ragionevoli mi piaceva insomma poi smise la conferenza scese dal podio e cominciò a venirgli un tic nervoso io pensai accidenti questo quale equilibrio ha preso l'alloioga c'hai tic nervosi ecco chi ha i tic nervosi non può permettersi di di pontificare agli altri sulla serenità dello yoga è il medico cura te stesso insomma no? quindi guardatevi dei falsi profeti guardatevi da quello da quelli che vi promettono fenomeni guardatevi da quelli che si alzano e si elevano al di sopra di voi che si sentono superiori a voi che si sentono diversi più siamo veri più stiamo con gli altri con i piedi per terra più riusciamo a capirli più siamo solidali più riusciamo a comprendere perché le persone si comportano in un certo modo e non le giudichiamo siate semplici e cercate le persone semplici la semplicità difficilmente ci è data la nascita come carattere è una ricerca che dobbiamo fare abbiate più fiducia nelle persone semplici che in quelle complesse abbiate più fiducia in chi parla con semplicità e si muove con semplicità se una persona ha un io grosso non fidatevi perché se non ha superato il suo io cosa vi può dare a voi vi deve dominare ok un saluto a tutti